Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignone. In A1 in direzione Bologna si viaggia, rallentati per l'intenso traffico tra Vallarno e Firenze Sud. Sempre verso Bologna, coda per traffico tra Firenze Nord e il BV1 variante. Prudenza per personale su strada presso l'entrata Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Nella notte tra il 14 e il 15 settembre, in orario 22.6, verrà chiuso l'allacciamento con la A11 provenendo da Bologna. In A11 la chiusura riguarderà chi proviene da Pisa ed è diretto a Bologna. Oggi a Empoli sarà possibile accedere e parcheggiare nell'area sterrata di Serravalle per agevolare la sosta dei tifosi per la partita in programma allo stadio alle 20.45. A Firenze sul viale Milton disagi per una riduzione di carreggiata da via Leone X a largo Martiri delle Foibe. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!